Oggi la squadra ha dimostrato tutto il proprio valore, si è espressa in campo con quei principi, con quegli ingredienti che sono necessari per raggiungere gli obiettivi e conseguire la vittoria. Lo spirito del sacrificio, l'umiltà, la determinazione, il spirito del gruppo. Una squadra che fin dall'inizio ha voluto portare a casa il risultato e l'ha fatto in modo compiuto. Quando è stata allestita, questa squadra è stata allestita sul presupposto di consegnare una rosa all'allenatore che fosse in grado di poter esprimere qualsiasi tipo di assetto tattico e tecnico, cosa che è accaduta. Oggi sicuramente è stata rispetto, perché noi dobbiamo, come saventemente e giustamente ha detto il mister, allestita la squadra in relazione agli avversari che abbiamo di fronte. In funzione di questo ha fatto bene all'estita un modulo 3-5-2, perché si è ritrovato un modulo che ha consigliato la squadra di essere compatta e nello stesso tempo di non perdere quella capacità offensiva che è sempre una.